Il ruolo fondamentale quindi anche della DIA di Reggio Calabria si pone l'accento ancora una volta sulla pubblica amministrazione? Sì, l'attività della DIA è un'attività ad ampio spettro che coinvolge ovviamente tutti gli aspetti istituzionali che è chiamata a curare il nostro organismo investigativo. Questo è un contesto investigativo nel quale sono state accertate una serie di condotte penalmente rilevanti che sono state successivamente sviluppate e approfondite dalla Guardia di Finanza. Siamo molto soddisfatti di questa operazione, Guardia di Finanza, Polizia, Economico e Finanziare ad alta vocazione sociale. Questo è un segnale forte alla società calabrese di vicinanza. Come si diceva prima non bisogna fare di tutelare un fascio, però dove ci sono situazioni incancrenite noi stiamo intervenendo chirurgicamente e stiamo colpendo fortemente grazie a questa squadra, a questa sorta di pool come si era accennato che sta lavorando in modo egregio. Rossella Galati per l'AC News 24